Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece Pirate World 3 e dobbiamo continuare con il diario degli incubi. Allora, per i diari di oggi mi avete detto di utilizzare Kizaru ed Ace per i capitoli appunto che abbiamo scelto. Io inizierei con Ace, visto che è qui. Allora, ogni organizzazione ha le sue fazioni, no? Ace doveva andare insieme a Wapollo qua. Hey, chi vi ha detto che potete mangiare? Sconfiggi quei maledetti che vogliono rubarti il cibo. E noi siamo con Wapollo perché dobbiamo rubare il cibo. Vabbè, diciamo che ci sta perché c'è Ace. Ha senso questa cosa. Forza dell'eroe, percezione della vera forma, elegante, alta tensione, potere del conquistatore che mi aumenta la forza del mio Aki. Tiè, via. Di qua però perché c'è un puntino grosso che arriva minaccioso. Lo uccido. Fortissimo. Tieni palline. Ok. Scendiamo un bel bracere sotto. E cuociamo. Ecco, vedi? Questo sarebbe un giusto episodio in cui far arrivare gli animali mistici della morte. Perché tra me e Marco potremmo veramente cuocerli a puntino. Sarebbero perfetti. Dove stanno le creature mistiche? Allora, facciamole tutte cotte. Non gente. Io non sono cannibala. Voglio la gente mistica, creatura mistica. Non la gente. Io il capo dei pirati non me lo faccio arrosto. Mi fa un po' schifo, ecco. C'è uno che sta andando a casa mia, tra l'altro. Aspetta. Tu dopo. Tu dopo. Prima quest'altro. Si fermi lei. Non può passare qui. Chi è? Un altro che è che palle. Ma un bel minotauro. Eh? Una bella arpia. Un bel fenicottero. No? Queste belle creature. Un bell'orsetto. Queste creature belle. No, eh? Insomma, ce ne sono tante di creature belle. Un bel chopper. Che l'arena, si sa, è sempre buona. Qualcuno ha ucciso l'altro, tra l'altro. Tra l'altro. Oppure è morto da solo. Di pena inciampata è morto, non lo so. Vado qui, vado qui. Croci per tutti. È arrivato, vedi? È arrivato il fenicottero, primo. Il primo essere mistico che faremo al rosto, vedi? Allora, amici, vogliono delle patatine al rosto. Devo trovarle. Le voglio tutte. Si sa che la carne con le patatine è sempre buona. Ti è. Dove sei? È arrivato Bellami, però. Cos'è sta storia? Oh, mi hanno fregato. Mi hanno detto, eh, volevi il fenicottero. Invece ti pigli Bellami. Divertiti. Eh, niente. Andiamo ad uccidere Bellami, allora. Allora. Bellami ha rubato il mio fenicottero, per caso. Tu ce l'hai in tasca. Vieni qua. Controllo. Vieni qua. Qua le palline della morte. Arrivo. Ha fatto il potere dell'eroe sto qua? No. Ahia, cosa mi ha colpito? Una molla mi ha colpito. Vedi, Bellami è tutto ferraccioso. Non è buono da mangiare. Ascolta, amico mio. Fai sto potere dell'eroe che poi attivo il Kizuna, per favore. E niente. Ah, ok. Ce l'abbiamo fatta. Preso. E niente. Ho interrotto l'attacco. Dai, l'avevo preso. Stavolta non l'ho preso. Ancora. Dai, l'avevo agganciata alla perfezione prima. Mamma mia, se ti brucio tutto. Non ho sparato via. Ho sbagliato. Questo volevo. Non ci arrivano? Non gliene frega nulla. Non è che non ci arrivano. Perché ha attivato... E adesso durerà mezz'ora questa animazione qua. Perché ho sta roba della famiglia. Che cacchio. Yeah. Guarda te. Se non devo essere in grado di uccidere uno perché ho la famiglia. Guardali che fighi che sono. Mamma mia. Bravissimi. Quasi, quasi. Wapol manco lo attivo. Che muoia, Wapol. No, scherzo, lo attivo. Mi serve il potere del Kizuna potentissimo. Questa frase aulica. Non so, nemmeno io devo andare perché tanti territori sono tutti lontani. Quindi se appare qualcuno lì vicino dovrò fare una corsa lunghissima. Eh, vedi, lo sapevo io che non sarei dovuta muovere. Vieni qua, fenicottero. Ti lancio le croci. Sparo tutto il fuocherello. Io ti sparo tutto il fuocherello. Ora, ora, ora anche a te. Mingo? Un bel bracere. Ecco qua. Che serve sempre il bracere. Ecco fatto. Non sto vedendo niente. Io vedo dei grandi pirati volanti, dei Wapol enormi e delle cupole. Per il resto non so cosa stia succedendo. Tiriammi un attacco, va, vediamo quanto danno. Riusciamo a fargli. Praticamente niente. Praticamente gli ho fatto una scottatura piccola, piccola. Vieni qua tu. Cosa ridi? Vieni qua tu. Preso. Yes. Bruciatelo, bruciatelo tutto. Yei. Posso andare a conquistare ora che ho fatto il mio spuntino? Grazie. Gentilissimi. Saluti. Il potere dell'eroe. E tutti dormono perché qua... Che sono fortissima io. Sì, ma la gente è per conquistare qua. Dove sta? Hm? E niente, guarda che mette mezz'ora a venire giù. Che devono cadere all'allentatore loro. Ma quello lì si è preso una fucilata in faccia, poverino, che... In quanto lui se la ricorderà per sempre. Mi ho proprio messo le dita in bocca e ho sparato via un fucilone di fuoco. Eccomi, eccomi. Sono qui, sono qui. Arrivo, arrivo, arrivo. Eccomi, eccomi. Ciao, garpito. Ti sparo tutto il fuoco divino della morte, vedi? Mentre tu fai l'animazione di non so cosa, io sparo. Eh, volevi lanciarmi una palla di cannone, invece... Ti lancio una palla di Wapol. Beh, vedi, la palla di Wapol ha fatto male. Di danno ne ha preso. Tiè. E niente, niente. Non ho sentito niente. Sparo tuttissimo. Perfetto. Siamo fortissimi. Però io devo conquistare, perché ho B con cui sto qua. Cosa devo fare? Devo fare tutto. C'è uno che mi salta dietro. Guarda questi, vedi. Vergogna, non si salta alle spalle della gente. Luci? Dammi il piccione che hai sulla spalla, Luci? Devo farci due chiacchiere, Luci. Te lo restituisco tra un attimo. Su un bellissimo vassoio d'argento. Vieni qua. Luci? Il piccione! Jabura non mi piace. Jabura è un lupo, io non li mangio i lupi. Sono brutti. Però insomma, Luci, se mi desse il suo piccione. Che detta così potrebbe solare malissimo in realtà, però va bene. Possiamo far fuori sto cos... Eh, niente. Devo staccarlo o qualcosa di perché mi stanno arrivando i colpi di Jabura alle spalle. Ma quest'uomo qui non avrebbe dovuto attivare il potere dell'eroe. Ah, ok, mi sta curando. Anch'io, anch'io! Aiai, non dovevo farlo. Adesso voglio vedervi a correre a questa velocità, maledetti. Vieni un po'. E niente, mi sono fatta colpire veramente perché non posso interromperli. Che fregatura del cavolo! Avranno delle animazioni di mezz'ora che io non posso interrompere. Che fregatura del cavolo! Che stupidaggine è questa cosa qui. Cioè, avere questa cosa della famiglia è veramente una fregatura. Ci sto morendo fortissimo perché non posso interromperli. Non ci voglio credere mai. Ok, uno l'ho preso. Luci, muorici. Ok, qui chi è rimasto? Signor capo dei miei stivali, pigli qua. Me l'avete stufato tutti. Cioè, prendono danno forse perché sono morti comunque, però non li posso interrompere. È una fregatura incredibile. Meno male che lui attacca dalla distanza, sennò ero mortissima. E nessuno mi ha lasciato la vita, sei dei pezzenti. Dei pezzenti, io ve lo dico. Andiamo va, Trophy. No! E niente. Speravo di arrivare prima io, invece è arrivato prima lui. Lo prendo, lo prendo. No, Iva-chan. Ti volevo come mia alleata bellissima, Iva-chan. Avremmo potuto friggere creature mistiche, Iva-chan. Raccontandoci storie sotto il focolare. Dai, Iva-chan. Mia piccola amica Iva-chan. Ora sono triste. Non voglio più mangiare le creature mistiche perché Iva-chan mi ha tradito. Vengo ad ucciderti, va. Così. Non andare a casa mia, vieni via. E niente. Ti butto fuori al volo, aspetta. Credo che debbano conquistarlo a questo punto perché sennò avrei già perso. Poverina. Effetto muscerino su parabrezza. Ecco qua. No, no! Tieni le pallette. Mamma mia che combo mortale gli abbiamo fatto. Esplosione di testa e poi presa. E ho fatto una stupidaggine, mi sono accorta dopo che stava facendo un attacco speciale, dannazione. E' che qua non vedo io. Non l'ho presa. Ok, vado, vado, vado. La prendo. E niente. Ho preso un altro. La piglio, la piglio. Chi c'è qua? Piglio pure lui. Non ho preso un altro, ma fa niente. Meno male che l'esplosione è ad area. Le pallette, le pallette. Ok. Abbiamo S. Abbiamo S. Ok. Il boss finale vuole arrivare... Ivachan mi ha lasciato della vita piuttosto. Grazie, Ivachan. TVBB. Ti sei fatta perdonare. Bravissima. Vedete, si è sentita in colpa. Perché lei sì che è una persona bella. Ti picchia, però si sente in colpa e ti lascia la vita. Dice, vabbè, ti ho fatto male. Tieni. Dove è apparso Sanji? Ma che cacchio, dai. E niente, partiamo per un lungo viaggio ora. Arriveremo tra 7-8 anni, credo. Pezzente di Sanji. Guarda dove è apparso anche lui. Eh, sarà meglio che ti inizi a muovere e mi vieni incontro. Perché qua, se no, non arrivo più. Niente, c'era un buco lì. Devi passare. Spazio. Via tutti. Certo che Sanji... Io ho fatto sette quarti di mappa, mentre tu hai fatto un centimetro. Ti stai muovendo molto velocemente, mi dicono. E ho anche sbagliato strada. Avrei potuto metterci molto meno se passavo subito a tutta destra. Però mi è sfuggita sta cosa, che non c'erano passaggi dall'altra parte. Ma vabbè, fa niente. Sanji, dove sei? Sanji? Ti piglio! Vai, traffi, picchialo tutto. Sono un idiota. Perché adesso dovrà levare la barra, vero? Eh, che cacchio, non lo farà mai. Non posso neanche disattivare il mio Kizuna. Ok. Io continuerò a ripeterlo. Sta cosa della famiglia è una stupidaggine. Meno male che prendo un minimo di danno anche a terra. Perché se dovessi aspettare che si alza, divento veramente vecchia. Lasciatelo fare, che qua si deve levare l'ultima barra di vita. Mentre con tutta la delicatezza del mondo cade a terra. Ok, fatto. Ci siamo stati lo stesso, giusto perché... O elegante, probabilmente. Perché se no non ci sarei stata mai. Niguatu. Guarda che deve rollare a rallentatore. Guarda che deve rollare a rallentatore sto qua. E niente. Sta saltando come un grillo. Non l'ho colpito una volta perché sta saltando come un grillo. Credo di non averlo preso. No, l'ho preso. No, non l'ho... Sì, ok, l'ho preso. L'ho visto roteare e ho detto, non l'ho preso. Eh, però io ora non vedo più. Dov'è? Scappo, 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 scappo. Ti piglio e niente. Eh dai, Sanjito, fatti picchiare fortissimo. Aspetta, io ho gli attacchi speciali, giusto? Magari lo stanno. Non ha sentito niente però, eh. Niente. No, l'ho interrotto. Non ci credo. Bravissimo, Ace. Al volo, al volo. Di nuovo, di nuovo. Non l'ho preso. L'ho preso per due volte al volo, ma... Dai, oh, piglialo. E niente, non lo prende più. Addio. È bello che si spegne le dita. Le metto, le metto. Sono un guerriero ora. Va bene. Un altro ricercato è apparso sulla nostra mappa, mi sa. Blueno. Va bene. Grazie. Vado a prendere il signor Kizari di luce e andiamo a fare l'altro capitolo. Questi PG stanno anche tutti a livello 50, non posso farli livellare, che due scatole. Ogni organizzazione ha le sue fazioni e gli ammiragli marine non fanno eccezione. E noi siamo col Kizari. Perché mai, Kik? Fatemi capire. Ma anche gli altri due in realtà non hanno senso, però va bene. Allora, abilità. Forza dell'eroe, elegante, alta tensione, conoscenza della battagliere, forza del leader, non mi piace, cambiamolo. Percezione della vera forma. Ho deciso di mettere percezione della vera forma, che così almeno se incontriamo Roja, che lo faremo, li uccidiamo veloci. Dovevo girarmi? Non c'è niente. Ci siamo scrocchiati il collo. Guardate se devo avere Kiritio nella mia vita. Sa l'attacco divino di morte. E distruzione. Guarda questi piccoli nanetti cosa... Vogliono provare a battermi questi piccoli nanetti? Sono pazzi? Siete tutti matti? Io ho il dito laser, vedi? Sono fortissima. Ecco qua. C'è un gigante però. Gigante un po' mi preoccupa. Schiva! E niente, stavo facendo un'animazione di non so cosa. Guarda gigante, con Kizaru non ti temo perché posso fare questo. Non ti temo proprio qui. Chi c'è qua? Non vi temo assolutamente mai. Troppo lungo. Fermi tutti. Eh già... Sì però siete un po' troppi. Io non vedo. Vedo solo degli attributi di gigante. Per dire la carina sta cosa. Non vedo niente. Non riesco a non mi fanno finire le combo. Possibile. Ce l'ho fatta. E niente. Siete dei giganti maleducatissimi. Non vi temo. Chi è questo? Uh, Josu. È morta tanta roba, ho sentito. Quanto calo di frame? Eh niente. Sti nanetti mi stanno colpendo fortissimo. Stai buono lì, Josu. Penso io a te. Non ti preoccupare. Listo. Fatto. Ti mette il mio ditino inquisitore. Chi è rimasto qua? C'è ancora uno. Ah, Franky. Non ho visto niente. Ho visto... Dello sfocatura. Incredibile. Eh lo so, Messi. Non ti piace, Krik. Ma c'è pure lui nella tua vita. Devi... Anche dargli l'opportunità di far qualcosa. Vai, Franky. Sà, ti farò un attacchino semplice. Non ha sentito niente. Beh, insomma. Beh, insomma. Per essere un attacco da una barra. Direi che ha fatto malino, eh. Fatto. Cosa mi ha lasciato di bello? Della vitina piccola, però. Piccola, piccola. Là c'è un'ascia. Non me ne frega un tubo. Vado di qua. Anche se in realtà siamo piazzati benissimo. Sia a uccisioni che a Kizuna Kill. Non c'è bisogno che io perda tempo a conquistare. Mentre aspetto che arrivi qualcuno, tipo Jabura, che mi tradirà fortissimo. Uccido gente, ma non ne ho tanto bisogno. Vediamo chi è il pirla che ci casca. Io punto tantissimo sul signorino Azo. E invece è arrivato Brook. Vedi? Sono sempre loro due però che arrivano. Creduloni. Ecco fatto. Arrivo, eh, ora, Brookie. Non ti preoccupare che non ti lascio da solo. Arrivo. Dov'è sto giganto? Aspetta, va, che andrò a aiutare Brookie. Che ho visto arrivare del pattume qua. Arrivo, arrivo. Ma è possibile che in 67 anni non l'avete ancora imparato che quello lì mente fortissimo? Dai, com'è possibile? Non bisogna fidarsi mai di già quanta bella gente però. Come posso resistere? Non vedo. Non vedo. Non vedo mai. E niente, guarda che pezzenti che siete. non vedo, non so cosa stia succedendo nella mia vita. Che palle si aggeggio! Non vi temo, ma porca paletta siete fastidiosi! Anche perché non vedo un tubo io come faccio? Non vi temo. Ho 3 HP, ma non vi temo uguale, guarda. Vola, Jabura, vola! Vola, Jabura! Senti quanto è forte la mia luce divina di morte. E niente, cosa mi ha colpito? Ce l'abbiamo loccato, no, eh? Ho perso. Piglia qua, Jabura, piglia qua. Niente, mi ha tirato una Kamehameha incredibile, ma io l'ho colpito con un calcio della morte. E ci è rimasto secchissimo. E cosa dovrei vedere io con sta roba? Lo lancio qua dentro, resisti. Cricco, non mi lasciare. Cricco! E niente. Cricco mi ha lasciato. È morto. Magari. Peccato che non è successo. Bruki! Prego, Bruki! Mamma mia. E niente. Non potete nulla voi. Dov'è? Il signorino di ghiaccio dov'è? Quanti giganti ti dovevi portare? Era necessaria sta cosa? Dimmi, era necessaria sta cosa? Niente, ora mi tocca lasciarti per andare a uccidere i signorotti qua. Gli sparo un altro, non c'ho la voglia io. Gli sparo un altro. Nemmeno due moriranno, spero. No, niente. Stanno la grande loro. me ne vado vissima. Ci ho provato. Questi giganti inutili, oh. Morto? Ok. L'altro è morto? Ok. Dov'è il signorino di ghiaccio? C'è della vita. Mi ci avvicino. Lesta, lesta. Presa. Non lo vedo il signorino di ghiaccio però. Dov'è? Qua dietro. Lesta, lesta, Kizaru. Lo indico con molta cattiveria e superbia. Tiè. Non lo farai. Il mio Kizuna non lo toccherai. No. Non te lo lascio fare, Kuzan. No, devo venire via. Ok. Ti hanno già disattivato i due. Stai buono con quella cosa lì. Stai buono. Non me lo devi il Kizuna perché io sono fortissima quando ho Kizaru. Kizaru è fortissimo. Vieni qua, vieni qua tu. Guarda se si fa colpire quel robo lì. Io non sento niente. Sono fatta di luce. Non sento niente. Potete picchiarmi finché volete qua sotto. Niente, non l'ho alzato però. La trappola, la trappola. Telecamera collabora. E niente, la telecamera non collabora ma l'ho interrotto lo stesso. Sono fortissima. Non è vero, è Kizaru che è fortissima in realtà, ma fa niente. Kuzan, ci vuoi rinunciare per l'amor di Dio? Ok, grazie. Della vita? Magari? Dove è finito? Vabbè, eccolo. Eh, posso andare avanti a stare nella mia bellissima forma di luce e morte. Ponto tutti. Con fare minaccioso. Voi morirete. Ma perché deve arrivare Ticcio per me? Non lo voglio Ticcio, vada via. Che palle. Ce la facciamo conquistare il suo territorio, grazie. Era tutto pronto per voi, ragazzi. Aspettavo fortissimo. Resisti, Kizu? Grandissimo. Bravo. Non ti sei fatto interrompere mai, perché tu sei fortissimo. Bravo, Kizu. C'è uno qui, però. Ma è troppo lontano, non ci arriverò con l'attacco. Vabbè, è morto. Lo indico. Lo indico. Fortissimo. Si è sentito accusato e ferito nell'orgoglio e se n'è andato. Diceva... Ok, meno male. Perché non li volevo assolutamente in gruppo. Niente, io ne abuso di questo attacco, lo so. Ma fa male, è un attacco potentissimo. Mamma mia, ho shottato Peach veramente. Bargy? Bargy, tu che mi dici? Vuoi ancora combattere contro di me, Bargy? Sei così folle, Bargy? Cosa faccio? Ah, giusto. Li stanno. Avrei potuto farlo mille volte con i giganti. Me ne ero dimenticata che avevo lo stannio. Niente, non l'ha stannato. Non è vero. Come funziona quella roba lì allora? In teoria dovrebbe, no? Forse non funziona sempre con i boss, probabilmente. Stanno facendo malissimo però qua sotto. Stanno picchiando le caviglie. Dov'è? Allora, stai fermo? Niente, poi ti uccido così. Credo ci dovrebbe morire. No, perché per qualche motivo non l'ho colpito. Era davanti a me ma è finito a lato. Non chiedetemi perché. Ecco qua. Ti ha. Sì, 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 va bene. È morto, tranquillo. Tranquillo, è morto. È mortissimo. Io ho anche a te. Bravi, bravi. Mi mandate a Kainu, dai. Non c'è paragone. Ci ho vinto io, basta. Dai, non c'è storia. Ho vinto io. Mandatemi a Kainu e andiamocene. Su. Questi rammolliti sono così noiosi. Hai proprio ragione. No, Teach no. Però Barges magari. Teach proprio non lo userò mai. Quell'uomo inutile è fastidioso. Bravo, Burgi. Beh? Ah, eccolo. Dov'è apparso qua? Apparso qua, è apparso qua. Arrivo. Stai zitto. Silenzio. Uomo di magma inutile. E niente, guarda se non sta già tirando dei Kazan questo qui. Non sa fare altro. Io mi immagino la gente che va a trovare a Kainu a casa e lo trova là con le braccia per aria che finge di lanciare Kazan perché sennò non si sente a casa. Voglio uccidere questo gigante. Mi turba. Mi turba tanto. Posso ucciderlo? Non lo vedo. E niente, è meglio che non faccia stupidaggini, va. Cosa... Ah, ok. Niente, Kainu, sei pattume. Io te lo dico, eh. Io dovevo essere il vero ammiraglio della marina, altro che voi due. Siete pattume voi due. Vedi? Sono fortissima. Non è vero. Qui l'unico che è vero ammiraglio è il signor Kazan. Nessun altro meritava quella posizione più di lui. Io ne resterò sempre fermamente convinta. Lo stiamo uccidendo, quell'uomo lì. Non sta sentendo niente, scusa, eh. Non è possibile. Vuole prendere un po' di danno, quell'uomo lì? Eh, è arrivato Tic, che palle. Guarda, se doveva arrivare Tic, vai via Tic, non ti vuole nessuno qua. Vai via. Neanche Barges ti vuole, scommetto. Niente, ce lo dobbiamo tenere. Non lo sto prendendo? Non ci credo. Non sta prendendo danno. Picchiate, l'ho picchiato fortissimo. Fatta. Il nuovo ammiraglio è qui. È fatta. Inchinatevi di fronte al nuovo ammiraglio della marina, con la voglia proprio nel corpo di fare l'ammiraglio. Guardatelo. C'ha tanta voglia lui. Quanta voglia nel corpo. Oh, è fantastico. Barges ha ceduto. Che bello, Mr. Free. Bravo. E l'altro? No, appena arrivato l'altro, figurati. Che ne dite? Diventerò un ufficiale della marina. Collabora all'addestramento di Kobe. Con chi devo collaborare? Umanoide e Kobe. Va bene. Chi deciderà l'orientamento del mondo? Esercito rivoluzionario e governo mondiale. Facciamo questi due qui. Fatemi sapere sotto con un commento quali personaggi utilizzare e dove. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e come sempre vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.